Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Oggi vi mostro brevemente quello che c'è all'interno del nostro shop giornaliero E sappiate che vi aspetta una bella sorpresina raga Ci spostiamo subito nel nostro negozio oggetti e andiamo a vedere che cosa troviamo Io ho già shoppato tutto perché ero già in live Quindi l'ho shoppato direttamente lì, l'ho fatto vedere a tutti Ma ora le voglio mostrare a voi Ecco qui il nostro negozio oggetti e che cosa troviamo? Il nostro crackshot Quindi abbiamo il nostro colpo da maestro Massimo E lui c'è anche Crackabella Quindi la versione femminile di Crackshot Molto ma molto bella come dice il nome stesso Le andiamo a vedere un po' nel dettaglio Ecco qui il nostro backpack Un backpack che avevano dato a coloro che già possedevano questa skin Ma comunque l'hanno dato anche a tutti noi Ecco la nostra skin, 2000 V-Buck ovviamente Invece lei, quindi versione femminile, 1500 V-Buck Sono sicuro che molti di voi preferiranno lei rispetto al crackshot E' ben fatta raga, è ben fatta Mi piace anche il backpack che porta infatti C'ha il crackshot sulle spalle Infatti una cosa che ho fatto ieri in live è stata questa Aspettate, è stata mettere Il crackshot Andiamo a metterlo qui E il backpack, eccolo qui Che cosa ne pensate ragazzi? Non ci sta meglio? Anche se c'è un piccolo spazio tra il dorso e il backpack stesso Comunque dettagli Torniamo di nuovo in quello che è lo shop E qui invece abbiamo palla di vetro Quindi il nostro piccone che fa parte del set schiaccianoci Quindi tre bellissime skin raga Perché sono belle, sono veramente belle Per un totale di 4300 V-Buck Ovvero 43 euro Mmm Io comunque proporrei all'epic di fare una sorta di bundle Ogni volta che escono dei set completi Sulla parte destra dello shop invece ci abbiamo Vista d'acciaio Aquila Devastatore Skin da 800 Che anche se sono un fan delle skin da 800 Devo dire che questa qui non mi ispira molto Comunque Pesce volante come glider Quindi il nostro sushi che svolazza Sprinkle dance E poi all'avanguardia come piccone Però non vi ho fatto ascoltare il sound di palla di vetro ragazzi Ascoltiamolo un po' tutti quanti assieme E dopo lo andiamo a provare anche in game Ok Allora facciamo Un minutino di parco giochi Con il crack shot E un altro minutino poi invece con lei Cracabella Il set di Natale è al completo Io direi che possiamo buttarci No comunque ragazzi Il backpack è troppo bello Chiamiamolo backpack per così dire Ma Bellissimo lui Anche quando è in volo Ed eccolo qui ragazzi Il nostro schiaccianoci Backpack di crackabella E il piccone nuovo Quindi Osservate bene L'animazione del piccone Che poi si addice totalmente A questa skin Non so se ci avete fatto caso Ma sembra proprio la testa Dello schiaccianoci C'è lo stesso cappellino Allora guardate un po' Come fa il piccone C'è il pan di zenzero Al suo interno Che comincia a roteare Fa una sorta di effetto centrifuga Faccio sentire anche il sound In game Eccolo qui Abbastanza rilassante Devo dire Il sound è azzeccatissimo Ragazzi Cioè il suono È perfetto Allo stesso effetto Di quando magari Sguazzate quelle palle di vetro Con dentro la neve È uguale Quindi si sente benissimo L'acqua al suo interno È fantastico Proviamo qualche balletto Allora Proviamo telefonata Che ieri me l'hanno chiesto Tantissimi Bella skin Bella skin Non so come siano Le hitbox Della testa Sinceramente Non vorrei che Avendo sto testone Pure se smirano Mi fanno sempre headshot Spero di no comunque Il backpack Il backpack ragazzi Segue il balletto In una maniera perfetta Ci spostiamo due secondi Nel menu Prendiamo Cracabella E facciamo La stessa cosa Con lei Allora Lei la utilizziamo Col suo backpack Principale Oppure Facciamo Al contrario Come abbiamo fatto Con Crackshot Che sembra Siano fatti apposta Sembra che proprio Abbiano invertito Le due cose Comunque E lei Già da qui Mi piace un bot Troppo 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 Bella Allora Ci buttiamo subito Sulla parte innevata E la andiamo a provare Con qualche balletto Allora La skin Si presenta Molto bene Anche in game Ragazzi Facciamo fare Qualche balletto Anche a lei Mi piace Mi piace Mi piace Un sacco Guardate La voglio vedere Di profilo Voi quale shopperete Ragazzi E se shopperete Ovviamente Fatemelo sapere Qua sotto Nei commenti Quale shopperete Tra lei Cracabella Oppure Il crackshot Adesso aspettiamo I pan di zenzero Nello shop Mancano quelli Ragazzi Mancano quelli Quindi ragazzi Un video brevissimo Su quello che è Lo shop Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate tanti like Al video Condividetelo Con tutti i vostri amici Ricordate che se volete Mi potete supportare Gratuitamente Con i vostri feedback Utilizzando questo codice Creatore JKR Martex Cliccando qui In basso a destra E poi Digitando Questo nick Noi ci becchiamo Nel prossimo video Che riguarderà Le sfide Dei 14 giorni Di fortnite Vi andrò a presentare Tutti i leak Di ogni singolo premio In quanto Abbiamo capito E mi è stato detto Che il colore Di ogni box Quindi di ogni pacchetto Regalo Va a rappresentare La rarità Dell'oggetto Al suo interno Che dire ragazzi Grazie per aver visionato Questo video Un salutone Da Martex Ciao brothers Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.